Oggi la Tari, fra un mese esatto, tocca a Tasi e Imu. Il mese caldo della tassazione entra nel vivo. Ultimo giorno per la scadenza della seconda rata della tassa rifiuti. In molti hanno completato oggi il pagamento, ma chi avesse dimenticato la data può provvedere nei prossimi giorni senza timore di incorrere in una sanzione. Lo ha chiarito l'assessore al bilancio del comune di Como Paolo Frisoni, rassicurando che ha ricevuto il modello per il pagamento con l'indicazione sbagliata del 30 novembre come ultimo giorno per poter fare il versamento. L'errore c'è stato, ma ribadisco la scadenza. Era oggi, dice Frisoni. La flessibilità comunque esiste, era sicura. Abbiamo già predisposto che non ci siano more. Ovviamente parliamo di ritardi che rientrino entro termini ragionevoli. Oggi intanto negli uffici comunali non si sono registrati particolari disagi. Dopo i rifiuti, tra un mese esatto, c'è il saldo delle imposte sulla casa, ovvero Tasi e Imu. La prima riguarda prevalentemente le abitazioni principali, mentre la seconda coinvolge la maggior parte degli immobili diversi dalla prima casa. Se per la Tari c'è una certa flessibilità, ricordo ai contribuenti, dice infine Frisoni, di essere puntuali per Tasi e Imu. In quel caso si segue infatti la legislazione nazionale e ogni giorno di ritardo conclude a una sua rilevanza.